Da Bruxelles a fondo contro Berlusconi nel 2011 il Cavaliere non rispettò più gli impegni presi e così ha soffocato la crescita del paese. Ora grazie a Monti la situazione si è stabilizzata, parole durissime quelle del commissario europeo all'economia Olli Ren che sprona l'Italia ad andare avanti sulla strada delle riforme. E l'attacco del commissario europeo a Berlusconi scuote il PDL, durissimo l'ex ministro Brunetta Ren mente sapendo di mentire. Intanto la campagna elettorale si infiamma sul tema delle tasse e della manovra bis. A Monti che promette una riduzione del carico fiscale replicano Muso Duro, Alfano e Bersani, sono solo promesse elettorali. Il fascismo fu un regime infame a cominciare dalle leggi razziali e il paese ne è consapevole. Così il presidente napolitano ha celebrato al Quirinale il giorno della memoria sfiorando la polemica che ha coinvolto Berlusconi. Il capo dello Stato ha poi messo in guardia il paese dalle insidie su revisionismo e negazionismo. Dall'inchiesta su Monte dei Paschi emergono nuovi particolari sconcertanti come un giro di bonifici all'estero per 17 miliardi. La procura di Siena ora indaga per truffa gli ex vertici della banca. Nel pomeriggio il ministro Grilli riferirà alle commissioni finanze di Camera e Senato. E ci sono nuovi guai giudiziari per Marcello Dell'Utri, il senatore del PDL indagato per peculato nell'inchiesta dei magistrati napoletani sulla scomparsa di preziosi volumi appartenenti alla storica biblioteca dei Girolamini. Arrestate sei persone, Dell'Utri si difende, è tutta una bufala. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della Sette. Dunque, l'avete sentito dai titoli, c'è stato un nuovo affondo dell'Unione Europea che interviene a gamba tesa nel dibattito elettorale italiano. Questa mattina infatti all'Europarlamento il commissario europeo all'economia, Olli Ren, ha attaccato duramente Silvio Berlusconi, colpevole di non avere mantenuto gli impegni presi per un indispensabile risanamento economico dell'Italia. Un risanamento economico che invece, ha detto all'Iren, si è accollato Mario Monti che nei pochi mesi del suo governo ha ridato all'Italia la credibilità che si merita. L'Italia è un chiaro esempio di risanamento dei conti pubblici. Parola di Olli Ren, commissario europeo agli affari monetari, davanti al Parlamento dell'Unione a Bruxelles. Ma l'Italia di Mario Monti, non certo quella di Silvio Berlusconi, che anzi, sono sempre parole di Ren, ha soffocato la crescita economica italiana. Così Ren ricostruisce quelli che sono stati mesi cruciali per il nostro paese. Tra l'agosto e il novembre del 2011, dice il commissario, l'Italia aveva fatto alcune promesse su misure di risanamento dei conti pubblici a fine estate, anche in modo da favorire l'intervento della BCE sul mercato secondario dei titoli di Stato. Inizialmente, continua ancora Ren, l'Italia rispettò le sue promesse. La BCE intervenne e per un breve lasso di tempo i costi di finanziamento migliorarono. Poi accadde che il governo Berlusconi decise di non rispettare gli impegni e da questo risultò un aumento dei costi di rifinanziamento dei titoli di Stato e una fuga di finanziamenti che ha soffocato la crescita economica e ha portato ad un vicolo cieco politico, che sfociò nel governo Monti, che più avanti riuscì a stabilizzare la situazione. Questo, ha concluso Ren, è un chiaro esempio dell'effetto sulla fiducia. Insomma, secondo Ren, per lo spread, che è in fondo un indice della fiducia dei mercati in un paese, Monti o Berlusconi non sono esattamente la stessa cosa. Un attacco destinato ad entrare, certamente, nella nostra campagna elettorale. Ren oggi presentava il semestre europeo sulle politiche economiche un'occasione per fare il punto sulla situazione generale. Un anno fa, ricordate il commissario, c'erano serie preoccupazioni per l'Italia e la Spagna e profonda incertezza sulla Grecia. Oggi la situazione è cambiata, ma le sfide non sono finite. La disoccupazione, innanzitutto, è una ripresa ancora molto lenta. La ricetta della Commissione europea è quasi un programma elettorale. Le priorità per i prossimi programmi di riforma nazionali devono essere il mantenimento del ritmo delle riforme economiche e il proseguimento del consolidamento fiscale, a cui non c'è alternativa. E le riforme continuarendo dovranno avere soprattutto un obiettivo, salvare l'industria europea, sia quella manifatturiera che dei servizi. Un obiettivo non difficile da individuare, se è vero, come snocciola il commissario, che nell'infosso decennio 2000-2011 le fabbriche delle quattro maggiori economie dell'Eurozona, Germania, Francia, Italia e Spagna, hanno perso per strada 2 milioni e mezzo di posti di lavoro. E naturalmente sono immediate le reazioni, in primis quelle del PDL che è impegnato in una rimonta che il segretario Angelino Alfano giudica a portata di mano. Olli Ren mente sapendo di mentire. È durissima la reazione del PDL alle parole del commissario europeo. Chiediamo una commissione d'inchiesta dell'Europarlamento sulle sue affermazioni destituite di ogni fondamento e gravemente diffamatorie dell'Italia e del governo Berlusconi, attacca Renato Brunetta. Il PDL accusa l'Europa di interferire nella politica italiana per favorire il professor Monti. Proprio adesso che, secondo Berlusconi, la rimonta è quasi completata. I sondaggi ci danno vicinissimi l'annuncio. Questa mattina ad omnibus del segretario Alfano, convinto che la rincorsa sia quasi finita. Le ultime rilevazioni dimostrerebbero che il PDL è ormai a ridosso del PD. Le parole di Alfano che rielabora i dati diffusi ieri da Berlusconi che vedevano il margine ancorato intorno ai 5 punti. Manca un mese, siamo a meno 2,6, quindi pienamente in partita, dice Alfano. Fondamentale per la rimonta, spiega il caso Montepaschi. Gli italiani hanno capito che chi ha gestito così una banca non può governare, attacca. Bersani ci sbrana, siamo tosti. Attento ai dentini, mostra ai muscoli il segretario PDL che rilancia la proposta di una commissione d'inchiesta sul caso Montepaschi. Picchiaduro Alfano in linea con l'offensiva di Berlusconi. Nel mirino del Cavaliere i comunisti ce ne sono più adesso che nel 94, ma soprattutto il premier Monti, temuto rivale nella corsa all'elettorato moderato. Le sue promesse sul taglio dell'Imu e gli interventi a favore delle famiglie e degli anziani sono bufale da campagna elettorale per Berlusconi che prova ancora una volta a smarcarsi dal rigore imposto dal governo con l'appoggio della strana maggioranza. Monti sta cercando di fare l'ago della bilancia ma credo che non gli riuscirà lo stop di Berlusconi. E al PDL non è andata giù la frase del premier su un'eventuale manovra aggiuntiva condizionata dall'esito del voto. Cosa centrano le elezioni? Attacca l'ex ministro Brunetta. Serve correggere i conti pubblici per rispettare l'impegno del pareggio di bilancio nel 2013? Oppure no? Monti, aggiunge Brunetta, riferisca in Parlamento e non lanci oscure minacce agli italiani. Ma lo scontro elettorale è anche molto vivace tra il centro-sinistra di Pierluigi Bersani e il fronte moderato di Mario Monti. due realtà che sono candidate ad una eventuale coalizione di governo e il tema principe rimane quello delle tasse. A meno di quattro settimane dal voto lo scontro elettorale si sposta sulle tasse. Ieri Mario Monti da Omnibus ha suonato il suo là. Una proposta fiscale che prevede di abbassare già a partire dal 2013 l'Imu sulla prima casa per passare poi dal 2014 alle riduzioni dell'IRPEF per le fasce medio-basse e dell'IRAP per agevolare imprese e occupazione. Impegni seri per il professore, facili promesse elettorali per il centro-sinistra che ha immediatamente messo in evidenza le contraddizioni di Monti. In un giorno le tasse sono calate di 30 miliardi tra quello che hanno detto Berlusconi e il nuovo Monti e ha ironizzato Pierluigi Bersani che ha bocciato anche la seconda proposta del leader centrista. Una grande coalizione con il PD e con il PDL ma senza Berlusconi con cui portare avanti le riforme. Per l'amor di Dio, lasciamo perdere la grande coalizione è stata la risposta di Bersani che comunque lascia in piedi l'ipotesi di un accordo con i centristi dopo il voto. Al leader democratico non è piaciuta neppure l'uscita del professore su un'eventuale manovra correttiva. La escludo ma dipende dall'esito del voto ha detto Ieri Monti. Mi pare di capire che la manovra non si fa se c'è lui, ha replicato il leader democratico. Un po' di modestia sarebbe consigliabile. Anche la CGL è in sorta con Susanna Camusso che ha accusato Monti di minacciare gli elettori. Insomma, fra il professore e Bersani si continua a respirare aria pesante mentre arriva l'apertura di Antonio Ingroia su eventuali alleanze dopo il voto. Un Bersani senza Monti sì, Bersani con Monti no, ha detto oggi il leader di Rivoluzione Civile a Uno Mattina. Bersani sbaglia quando dice di non ritenere utile il dialogo con noi. Segue il durissimo scambio di colpi con Casini. La candidatura di Ingroia non è seria attacca il leader Udc. Un magistrato non può fare indagini delicatissime sulla mafia per poi presentarsi sullo stesso territorio per pretendere i voti dei cittadini. Secca la replica dell'interessato. Casini dice che la mia candidatura non è seria e allora la sua lui è sempre candidato impresentabili a partire da Cuffaro. Ecco, ma nel panorama politico c'è anche la Lega di Roberto Maroni che vive con una certa sofferenza l'alleanza con il PDL di Silvio Berlusconi. è un'alleanza che darà prova nelle elezioni in Lombardia. Che la Lega vinca o perda le elezioni regionali in Lombardia comunque Roberto Maroni farà un passo indietro e non sarà più segretario del Movimento. Lo ha annunciato lui stesso in un'intervista online. Il congresso dovrà essere convocato per l'autunno o al massimo la primavera del 2014. A meno di un mese dalle elezioni Maroni ammette che anche se la coalizione col PDL sarebbe avanti in alcuni sondaggi la strada non è in discesa e cita Che Guevara. Chi non lotta ha già perso e in caso di sconfitta la Lega dovrà fare uno stop and go fermarsi, rifare il programma e creare un nuovo gruppo dirigente possibilmente con un segretario più giovane. Anche in caso di vittoria al Pirellone Maroni non sarà più segretario farò il garante del progetto della macro regione del nord spiega e dalla macro regione parte il programma della coalizione La Nostra Lombardia ha presentato ieri. Da tenere almeno il 75% delle tasse in Lombardia significa avere 16 miliardi di euro l'anno in più 50 milioni al giorno. Programma in continuità con l'amministrazione di Formigoni che del resto avrebbe dato un buon contributo nella stesura. Quello che noi vogliamo continuare la buona esperienza delle politiche della regione Lombardia Il programma ammicca la componente cielina dello schieramento con l'attenzione al sociale e alla famiglia. Il primo capitolo però è dedicato alle imprese a cui dovrebbe restare la fetta più grossa dei 16 miliardi. Il 3% del PIL Lombardo sarà investito in ricerca e innovazione e per gli under 35 che si inventano un'impresa una no tax area di tre anni. Critici gli avversari per Albertini Maroni promette la luna e la proposta viene da una fonte che quando era al governo non è stata in grado di lasciare lo 0,17% di tasse in più alla regione. Gli fa eco Maurizio Martina segretario regionale del PD quando Maroni ha governato da ministro del welfare le manovre economiche sono costate alla Lombardia 11 miliardi. Dopo giorni di polemiche provocate dalle parole di Silvio Berlusconi sul fascismo a rimettere le cose a posto ci ha pensato oggi Giorgio Napolitano il Presidente della Repubblica dal Quirinale per celebrare il giorno della memoria ha definito il fascismo un regime infame come infami sono state le leggi razziali. non dimentichiamo le infamie del fascismo le sue aberrazioni a cominciare dalle leggi razziali del 38 è il siluro di Napolitano alle parole di Berlusconi sul fascismo buono o meno cattivo il Presidente tocca solo per un attimo le corde della polemica quella su cui è intervenuta anche l'Europa e poi guarda avanti oltre questo passaggio elettorale dice che le fondamenta democratiche ci sono e che ogni forma di neonazismo avrà dallo Stato la risposta più dura la mobilitazione più forte la scoperta per tanti delle generazioni più giovani e quindi la denuncia dell'infamia delle leggi razziali del 1938 il ricordo di Napolitano parte da Milano binario 21 quello che portava direttamente nei campi di sterminio comincia da lì il suo ricordo il ricordo al Quirinale per il giorno della memoria un ringraziamento ai giovani agli studenti che hanno saputo toccare le corde giuste quelle del ricordo e della maturità e un saluto commosso a Rita Levi Montalcini ebrea che fu costretta a lasciare l'Italia ora siamo forti nelle nostre coscienze dice il Presidente nel rifiuto dell'antisemitismo ricordando quegli italiani divenuti giusti nello Stato di Israele che ha diritto a esistere come è essenziale che Italia ed Europa facciano la loro parte per la pace in Medio Oriente nella logica dei due Stati tracciata da quell'autentico amico che è il Presidente Shimon Peres eppure emerge ancora e circola quella paccottiglia ideologica di natura nazista e razzista che troviamo persino sugli spalti dei campi di calcio una mostruosità dice Napolitano una mostruosità il negazionismo una mostruosità l'antisemitismo perché in gioco ci sono valori supremi c'è il rispetto di quella dignità umana ridotta a brandelli nei lager nazisti su fronte dell'Italia l'Italia delle inchiese c'è grande attesa su quanto dirà tra poco in Parlamento il Ministro dell'Economia Vittorio Grilli sul caso Monte Paschi di Siena si aggrava la posizione dei vertici del Monte dei Paschi di Siena dopo turbativa dei mercati ed omessa vigilanza ora l'ex Presidente Mussari e l'ex capo dell'area finanziaria Baldassarri sono accusati di truffa secondo i magistrati senesi Nastasi Natalini e Grosso i due avrebbero nascosto agli azionisti le operazioni sui derivati che dovevano servire a richianare il debito causato dall'acquisto di Anton Veneta l'ipotesi investigativa che porterebbe a tangenti prende il via proprio da un sovrapprezzo di 2 miliardi pagato da Monte dei Paschi di Siena per l'acquisizione di Anton Veneta agli spagnoli del Banco Santander nel 2007 secondo l'accusa l'istituto di credito senese dopo aver comprato Anton Veneta per 9 miliardi ne versò 7 direttamente al Santander e gli altri due furono depositati su un conto londinese dello stesso gruppo spagnolo un'operazione sospetta su cui da quel 9 maggio 2012 in cui la guardia di finanza fece il suo blizza Rocca Salimbeni la procura di Siena lavora a ritmi serrati per capire che fine abbiano fatto quei 2 miliardi in più nel mirino degli inquirenti ci sono tutti i nomi dei vertici del monte gestione Mussari a detta della procura nel 2009 i manager giocarono il futuro della banca alla roulette dei derivati l'avvio della crisi però rese più urgente coprire i danni fatti e salvare coltrone e privilegi senza contare che i soldi versati in eccesso nell'operazione Anton Veneta sarebbero stati ripartiti proprio tra loro e rientrati in Italia grazie agli scudi fiscali 8 i bonifici che partiti da Siena proprio in quel periodo sarebbero stati inviati ad Amsterdam Londra e Madrid e che fanno salire le cifre dell'affare Anton Veneta a 18 miliardi di euro intanto un portavoce della banca centrale europea riferisce di un incontro avvenuto ieri nella sede milanese del ministero dell'economia tra il presidente dell'euro tower Draghi e il ministro Grilli è probabile che si sia parlato di ciò che Grilli riferirà oggi alle 15 nell'audizione alla camera stamani si è tenuta la prevista riunione del comitato di stabilità finanziaria convocato per aggiornare la situazione del settore dove il ministro dell'economia ha affrontato anche la vicenda Monte dei Paschi di Siena Insomma anche questa è l'Italia forse del malaffare forse delle tangenti che se da una parte arricchiscono enormemente e illegalmente alcuni e pochi dall'altra affamano il resto del paese basti pensare che negli ultimi 5 anni le politiche sociali hanno subito un taglio del 75% ne sa qualcosa ad esempio chi è costretto a prendersi cura di un familiare autosufficiente completamente da solo senza nessun aiuto Per le politiche sociali è l'anno zero e l'allarme lanciato dal sindacato dei pensionati della CGL che denuncia un taglio dei fondi pubblici del 75% negli ultimi 5 anni un conto salatissimo pagato dalle famiglie dai giovani e soprattutto da chi non è autosufficiente dal 2007 al 2012 i vari governi che si sono succeduti hanno ridotto il flusso di denaro pubblico verso il fondo per le politiche sociali la principale fonte di finanziamento statale degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie che è passato dai 923 milioni di euro ad appena 70 milioni un fondo importante che serve a sostenere chi nella società fatica di più come vedete i tagli riducono all'osso sia i finanziamenti a sostegno della famiglia passati dai 185 a 31 milioni di euro che quelli per le cosiddette politiche giovanili che da 94 oggi sono appena 8 milioni di euro ma la situazione davvero drammatica e non degna di un paese civile è quella che riguarda i fondi per le persone che non sono autosufficienti il governo Berlusconi e poi anche quello di Monti nonostante manifestazioni di protesta e promesse varie hanno azzerato i finanziamenti statali a sostegno di chi è gravemente malato o diversamente abile l'indagine del sindacato dei pensionati della CGL ha rilevato che nel 2010 c'erano a disposizione 400 milioni di euro ora per interventi di assistenza alle persone e alle famiglie non c'è neanche un euro lo Stato si è dimenticato delle fasce più deboli del paese lasciate letteralmente al proprio destino ha detto il segretario dei pensionati CGL Carla Cantone che rimprovera tutti i politici di non aver messo al centro della campagna elettorale e del programma di governo il futuro dello Stato sociale e ci sono nuovi guai per Marcello Dell'Utri che è indagato per concorso in peculato il senatore del PDL è infatti accusato da chi indaga di avere ricevuto alcuni preziosi volumi che sono stati sottratti dalla storica biblioteca dei Girolamini a Napoli un'inchiesta che ha già portato sei persone in carcere tra questi c'è anche l'ex direttore Marino Massimo De Caro che è attualmente rinchiuso a Poggio Reale gli inquirenti parlano di un brutale saccheggio anche Marcello Dell'Utri si sarebbe impadronito di libri di inestimabile valore appartenenti alla biblioteca dei Girolamini a Napoli il senatore PDL è indagato nell'inchiesta della procura di Napoli che ha visto finire in carcere il direttore della struttura Massimo De Caro l'accusa è concorso impeculato Dell'Utri avrebbe ricevuto una decina di volumi sottratti alla biblioteca finora ne sono stati recuperati 4.000 manca tra i libri che risultano essere stati consegnati al senatore Dell'Utri un'opera di Thomas Moore Utopia un'edizione estremamente preziosa che non si sa che fine abbia fatto 6 le persone destinatari di ordinanze di custodia cautelare 4 erano già in carcere l'accusa è quella di associazione per delinquere finalizzata al peculato alla falsificazione e alla ricettazione di migliaia di volumi antichi l'inchiesta è partita circa un anno fa dopo alcune notizie di stampa che denunciavano la sparizione dei preziosi libri una scomparsa che fu collegata alla nomina del direttore della biblioteca De Caro già consigliere del ministro per i beni e le attività culturali 500 volumi stavano per essere venduti da una casa d'aste di Monaco di Baviera gli immediati contatti con l'interpol tedesca hanno bloccato l'operazione sono in corso perquisizione in tutta Italia per intracciare altri volumi rari spariti insieme ai cataloghi che ne accertavano l'esistenza i libri secondo gli inquirenti sono finiti sul mercato internazionale in Francia Germania Stati Uniti io non c'entro proprio niente ma niente li ho detto già con la trasparenza assoluta i libri che lui mi ha dato sono stati registrati e segnati come provenienti da lui in una biblioteca aperta al pubblico ma cosa vuole di più dove è qui il reato dove è la trasparenza assoluta Franco Gallo 76 anni e nuovo presidente della Corte Costituzionale è stato eletto questa mattina con 14 voti favorevoli e una scheda bianca rimarrà in carica fino al prossimo 16 settembre quando termina il suo mandato appena eletto il nuovo presidente ha messo sul tavolo il problema principale di cui la Corte dovrà occuparsi e cioè la difficile situazione dell'Ilva di Taranto Gallo ha promesso che farà di tutto per accelerare i tempi di decisione e ha spiegato che probabilmente si interverrà con una norma per ridurre a metà i tempi previsti la consulta lo ricordiamo deve decidere sulla legittimità costituzionale sollevata dal GIP di Taranto Patrizia Todisco in merito appunto alla legge Salva Ilva ma adesso occupiamoci di un'altra notizia importante il caso di Ussica torniamo a parlarne perché appunto dopo 30 anni di indagini di processi di depistaggi è stata finalmente sancita la prima verità sono i governi che devono bussare alle porte di quei paesi che non hanno voglia e coraggio di parlare di questa vicenda oggi siamo di fronte a dei regimi diversi da quelli durante i quali si determinò l'evento quindi qualcosa potrebbe essere cambiata così il giudice Rosario Priore che a lungo si è occupato dell'inchiesta su Ustica commenta la sentenza della terza sezione civile della Cassazione una sentenza che ha stabilito una cosa nuova che lo Stato è colpevole perché non ha protetto adeguatamente i suoi cittadini e che i familiari delle vittime hanno diritto ad un risarcimento Ministero della Difesa e Ministero dei Trasporti devono pagare i danni perché è pacifico l'obbligo di assicurare la sicurezza dei voli si parla di 110 milioni al momento bloccati dall'avvocatura dello Stato i giudici hanno sposato l'ipotesi della battaglia aerea il 19 fu abbattuto da un missile rispondentemente congruamente motivata scrivono la vicenda è nota il 27 giugno del 1980 alle 20.59 il 19 Italia in volo da Bologna a Palermo scompare dai radar i morti sono 81 le ipotesi si susseguono un missile una bomba un cedimento strutturale anni di indagini depistaggi colpi di scena come quando nel 2007 l'ex capo dello Stato francese Cossiga parla di un missile lanciato per errore dalla Marina militare francese che voleva battere il MIG su cui viaggiava Gheddafi il processo penale aveva preso però tutto un'altra piega la prima sezione della Cassazione aveva stabilito che l'esistenza di un velivolo accanto al 19 era supportata solo da ipotesi deduzioni probabilità con basse percentuali e mai da certezze nessun atto di guerra né complotti per nascondere la verità vennero assolti così anche due generali dell'aeronautica e in Mali non si ferma l'offensiva delle truppe francesi contro i ribelli jihadisti sono state praticamente riconquistate tutte le città chiave del nord del paese e messi in fuga gli islamisti legati ad Al-Qaeda salvata anche la leggendaria Timbuktu che ora è di nuovo sotto il controllo dei militari e del Mali e dei francesi anche se proprio in queste ore è stato lanciato un'allarme per il patrimonio culturale della città prima di partire alcuni ribelli hanno infatti appiccato un incendio alla biblioteca della città che ospita 18.000 preziosissimi manoscritti antichi alcuni risalenti addirittura al 1200 ed è molto alta la preoccupazione per quanto sta avvenendo in Egitto per il ritorno della violenza tra i manifestanti laici e liberali contro un regime è quello di Morsi e dei fratelli musulmani che diventa di giorno in giorno sempre più autoritario in Egitto si rischia il collasso dello Stato è il capo delle forze armate e il ministro della difesa il generale Al-Sisi ad usare queste parole ad esprimere massima preoccupazione per la crisi egiziana che in queste ore sembra aver imboccato una strada senza ritorno né il coprifuoco dichiarato due giorni fa dal presidente Morsi e né le leggi d'emergenza varate ieri dal governo sono servite a frenare gli scontri per le strade presidiate oramai anche dall'esercito i militari da ieri hanno pieni poteri compreso quello di arrestare civili per problemi di ordine pubblico un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni e che ha avuto l'effetto della benzina sul fuoco infatti gli scontri iniziati la scorsa settimana nel secondo anniversario della rivoluzione per protestare contro la mancata realizzazione delle richieste della piazza e per il pugno duro del governo contro i manifestanti sono proseguite anche la notte scorsa in particolare al Cairo dove sono stati assaltati diversi alberghi e una camionetta dell'esercito è stata incendiata ma a preoccupare le forze armate è il canale di Suez cruciale passaggio dall'Europa all'Asia obiettivo strategico e vitale per l'Egitto e proprio a Suez come a Port Said a Ismailia a città che affacciano sul canale si sono verificate in questi giorni massicce proteste migliaia di persone hanno violato il coprifuoco e si sono verificati violenti scontri con la polizia per questo al Sisi ha comunicato questa mattina che l'esercito non consentirà mai che Suez sia messo a rischio annunciando un dispiegamento massiccio di militari in attesa che venerdì il popolo torni in piazza chiamato di nuovo a mobilitarsi dalle opposizioni per realizzare gli obiettivi della rivoluzione opposizione che ha respinto l'invito al dialogo lanciato da Morsi il fronte di salvezza nazionale chiede piuttosto al presidente di assumersi tutta la responsabilità per i morti almeno 50 di questi ultimi giorni siamo allo sport al calcio perché dopo le polemiche arbitrali di campionato costate due giornate di squalifica al tecnico della Juventus Antonio Conte e Bianconeri tornano in campo stasera contro la Lazio nella semifinale di Coppa Italia sarà una Juve amareggiata e ancora nervosa quella che stasera scenderà in campo all'Olimpico di Roma per giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio appena ieri infatti il giudice sportivo ha distribuito sanzioni dopo il rovente fine partita di sabato sera contro il Genoa due giornate di squalifica Conte Abbonucci una a Vucini Cecchiellini insomma nervi tesi è un risultato l'uno a uno dell'andata che impone ai bianconeri di fare la partita e di segnare perché lo 0 a 0 manderebbe in finale la Lazio il presidente Agnelli dà la carica e si rivedrà Pirlo in panchina Petkovic manderà in campo la miglior squadra forse anche Close e lo stesso Mauri che ieri ha lanciato un messaggio fin troppo chiaro spero che l'arbitro non sia condizionato ha detto il centrocampista della Lazio dalla Coppa Italia l'attenzione si sposta sul calciomercato dove tiene banco il ritorno di Balotelli a Milano sponda rossonera nelle prossime ore si deciderà il futuro di Mario che salvo sorprese sarà in Italia Galliani potrebbe alzare l'offerta a 22 milioni di euro e chiudere subito col Manchester City oggi il quotidiano inglese De San riferisce anche di un'intrusione della Juventus che avrebbe avanzato una proposta analoga a quella del Milan ma sembrerebbe più un'azione di disturbo intanto Balotelli che aveva già salutato i compagni del City durante una festa nel fine settimana ha svelato attraverso un sms agli amici di Brescia il suo imminente ritorno gli sviluppi delle trattative sembrano invece allontanare l'attaccante del Lione Lisandro Lopez dalla Juve che adesso sta virando su Gabbiadini o Immobile ore decisive per la panchina della Roma stamattina Zeman ha regolarmente diretto all'allenamento a Trigoria ma dopo le parole di Sabatini ci stiamo pensando non sono esclusi colpi di scena a breve termine Panucci e Zago attualmente assistente tecnico di Zeman i papabili traghettatori ma il nome forte è quello di Laurent Blanc ex CT della nazionale francese è il momento di una pausa tra poco di nuovo in studio vedremo se ci sono degli aggiornamenti ben tornati in studio il nostro telegiornale finisce qui vi ricordo però per gli aggiornamenti il nostro sito internet tgla7.it e poi naturalmente il telegiornale delle venti con Enrico Mentana grazie per essere stati con noi arrivederci grazie per aver guardato